Come promesso vi do informazioni su cosa accade la mattina del 3 agosto, quindi avete visto 500 metri, Viviana esce intorno alle 8 e 5, 8 e 10, percorre questi 500 metri e va in una botteghina che vi faccio vedere, oltre la statale 113, oltre la ferrovia, viene sempre dritto da casa sua vicino all'ufficio postale, una piccola botteghina dove compra delle cose, ora io non so, però ho ipotizzato anche che magari si fosse comprata per esempio l'acqua per andare via, l'avevo detto questo ieri, non sapevamo molto di più, oggi sappiamo qualcosa di più, allora sappiamo ad esempio il nome del posto, che si chiama Spendi Poco, ed è un piccolo minimarket, una piccola bottega, oggi abbiamo saputo degli altri dettagli che possono essere molto interessanti, anche se sarebbe bello sapere ancora qualcosa di più, però ci dobbiamo accontentare. Quello che abbiamo saputo è che a quanto pare Viviana va da sola quella mattina alle 8 e 10 in questo posto, o meglio questo sostiene qualche persona legata a questo posto, che tra l'altro poi essendo capitato quello che è capitato quel giorno ha un po' memorizzato bene l'accaduto, perché giustamente tu dici oddio l'ho vista quella mattina, ha fatto questo, ha fatto questo e poi non te lo scordi più. Un altro dettaglio molto particolare appunto come vi dicevo è che Viviana quella mattina nello stesso istante in pratica suddivide, secondo quello che si ricorda questa persona, il conto in due, cioè fa un pagamento più grande e prende delle cose e poi una piccola rimanenza, una piccola cifra nel senso, la paga a parte, cioè fa due transazioni separate nello stesso momento, come se volesse tenere appunto due conti diversi. Questo è quanto ci ricordiamo, purtroppo non si ricordano al momento che cosa possa avere preso, sarebbe molto interessante appunto capire se avesse preso un panino dell'acqua che potesse far pensare che lei aveva in mente quel giorno di fare una gita. Sarebbe molto interessante sapere anche questo. Nella descrizione del video vi metto anche l'indirizzo Instagram di una mia amica che si sta rendendo molto utile nel fornire ogni tanto delle informazioni importantissime. Aggiungetela su Instagram anche perché è bella e ne vale la pena.